No, è andato bene nel senso che ho spiegato tutta la mia posizione, ho chiarito tutti i punti. Ma non può scendere un attimo Presidente? No, sarebbe molto più comodo Presidente. Presidente, come ha spiegato la nome del suo ex socio? Ho dato le risposte alle domande che mi sono state proposte, ho chiarito quella che era la mia posizione. E quindi nel merito dell'incarico a Marsico? Ha chiarito tutto, ha chiarito tutto Presidente, è terreno Presidente. Di più. Come ha spiegato la nomina a Marsico Presidente? Questo lo chiedete ai magistrati, quello che ho detto ai magistrati l'ho detto loro, quindi non ho altro da aggiungere. Ha parlato anche dei suoi contatti con Caglianiello? Ho detto che ho parlato di tutte le domande che mi sono state rivolte. Ho richiarito tutto, punto. Grazie.